Ciao a tutti, sono Emanuele di Numero e siamo dentro in mezzo delle registrazioni delle tracce di basso. Qui abbiamo sempre il nostro fonico senza capelli, che al momento è sempre senza capelli, sta giocando al cellulare. Io oggi sto registrando con un Tobias Basics iCode, la fabbricazione Gibson, purtroppo non è la fabbricazione proprio di Michael Tobias. E niente, adesso mi accingo a concludere le registrazioni perché per oggi ho finito e finisco con l'ultimo pezzo. Per le revisioni ancora ci saranno altri giorni che dovremo spendere per farlo.